Buongiorno, buongiorno, io sono Arcadius e da questo meraviglioso parco asburgico di Levico Terme vi racconto queste due parole di un detto famosissimo, carpe diem, carpe tulipannum, carpe domum. Anche il mondo immobiliare, ogni momento ha le sue regole, quindi prendi, cogli l'occasione, questo è il momento migliore questo è il momento che passa così, ma la primavera è il momento migliore per mettere il tuo immobile in vendita e gli altri per cogliere questa occasione. Siamo in Trentino dove si vive bene, dove si sta veramente bene, circondati dalla natura, d'accanto degli uccelli, da questi colori esuberanti. Il Trentino è una regione dove la popolazione è più attiva, dove la regione stessa, la configurazione, ti porta a essere attivo. Infatti Trentini e tutti coloro che vivono qua è un popolo molto attivo, molto vivace, ma soprattutto Trentino è un posto dove si sta proprio bene. Ve lo dico io che non sono un Trentino doc, sono un Trentino ad hoc. A prestissimo, ciao raga!